1500 ricercatori toscani, 14 città coinvolte, 350 incontri ed eventi. Torna Bright, la notte dei ricercatori, che quest'anno si svolgerà il 27 settembre. È un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea e gli eventi organizzati in Toscana toccheranno tutti i campi della scienza e della cultura. Un modo per mettere al centro la ricerca e i ricercatori e far comprendere anche alla società, all'intera società, quanto sia importante la ricerca, quanto sia importante l'alta formazione sui temi dello sviluppo del territorio. La notte dei ricercatori è il frutto della collaborazione tra tutte le università e gli enti della ricerca della Toscana con un occhio particolare al tema della sostenibilità che si lega a quello della crescita. Nel mondo contemporaneo il problema della crescita va confrontato con ciò che effettivamente può essere fatto per crescere e tener conto di quelle che sono, ormai abbiamo tragicamente scoperto, le risorse limitate del nostro mondo. Dunque crescere sì, ma cercando quanto possibile di fare economia delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. Uscendo nelle piazze o aprendo i laboratori, i ricercatori saranno i veri protagonisti degli eventi rivolti a tutti, anche ai più piccoli scienziati in erba. Gli eventi si svolgeranno a Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Arezzo, Grosseto, Prato, Colle Valdelsa, San Giovanni Valdarno, Calci, Cascina, Pontedera e Viereggio. Grazie a tutti.